Due appartamenti confiscati al clan dei Casalesi, in particolare a uno degli ideatori dell'ecomafia, l'imprenditore Cipriano Chianese, condannato in via definitiva a 18 anni di carcere per associazioni camorristiche e avvelenamento di acque, diventeranno alloggi di servizio dei finanzieri. Gli appartamenti situati a Caserta in Corso Trieste sono stati consegnati al comando provinciale di Caserta alla presenza del comandante Giuseppe Furcuniti dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati per il tramite della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio e sotto l'egida della Prefettura di Caserta. Presenti il dirigente dell'Agenzia dei Beni Confiscati e il responsabile dei servizi territoriali di Napoli II della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio. Gli immobili facenti parte di un patrimonio molto più esteso sono stati sequestrati nel 2011 dalla Direzione Investigativa Antimafia dopo un provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capoavetere. L'iter si è concluso nel 2013 con la confisca definitiva disposta dalla Corte di Cassazione. Gli appartamenti diventeranno alloggi per gli ufficiali della Guardia di Finanza che per ragione di servizio si trasferiranno a Caserta con i familiari. Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha sottolineato come ciò costituisca un'importante affermazione dello Stato anche sotto l'aspetto simbolico in quanto consente di apprezzare meglio come la valorizzazione e l'utilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie possano andare a vantaggio anche di quegli stessi attori istituzionali che con la loro azione contribuiscono in maniera determinante alla complessiva strategia di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.